Ciao a tutti gli appassionati di orologi. A dicembre vi ho parlato per la prima volta di Baltic, un giovane marchio francese che nel giro di poco tempo ha saputo conquistare un numero considerevole di fan in giro per il mondo. Merito sicuramente del suo stile che reinterpreta in modo molto sapiente i design del passato e merito anche dei prezzi che restano tutto sommato alla portata di tutte le tasche. Questa volta vi parlerò di un modello uscito nel 2022 che per la prima volta per questo marchio è realizzato interamente in titanio. Questo è un materiale che solitamente a me piace parecchio sia per quanto riguarda il suo aspetto che per quanto riguarda la maggior leggerezza rispetto all'acciaio. In questo caso questo materiale è abbinato a un design che in qualche modo fa un po' da ponte di collegamento tra passato e presente. Vediamo allora insieme com'è questo Baltica Aquascap Titanium. Il corredo è lo stesso già visto in occasione della recensione del Dual Crown. Pur non essendo realizzato con materiali nobili stupisce per la cura dei dettagli. Nel vano inferiore della controscatola in cartone ci sono un piccolo manuale di istruzioni e una card metallica che riporta un QR code. Inquadrandolo si accede alla pagina relativa alla propria garanzia, un particolare che non avevo mai visto utilizzare in questa fascia di prezzo. La scatola è rivestita in similpelle blu all'esterno e in tessuto morbido scamosciato all'interno. L'Aquascap Titanium al momento è disponibile solo in due colorazioni di quadrante, blu e nero, e le due configurazioni differiscono anche per alcuni lievi dettagli. Il nero si accompagna infatti ad una texture superficiale granulosa e alla superluminova C3X1, mentre sul blu la finitura superficiale è lucida e la pasta luminescente adottata è la BGW9. Per questa recensione, tanto per cambiare, ho scelto proprio la configurazione blu, che ha una tonalità molto scura e offre un po' di brio in più rispetto al tradizionale nero, senza però essere esageratamente brillante per chi non vuole indossare un orologio troppo sgargiante. Trovo che sia azzeccata per lo spirito di questo Aquascap. Le scritte sono ridotte all'osso, ci sono infatti soltanto il logo in alto e in basso il nome del modello accompagnato dal dato sull'impermeabilità. Sempre nel pieno rispetto dello spirito fortemente ispirato ai diver del passato, in questo Baltic manca la finestra della data. Chi non può fare a meno di questa funzionalità dovrà mettersi l'anima in pace, ma il lato positivo è ovviamente dato dalla perfetta simmetria del quadrante. Qui ritroviamo uno stile degli indici molto simile a quello già visto sul Dual Crown. Anche in questo caso per questi indici si è partiti da quelli classici del Submariner, ma con una riuscitissima rielaborazione di quelli a ore 3, 6, 9 che sono arrotondati. Le sfere di ore e minuti, pur avendo un design riconducibile a quello a matita, riportano al loro interno delle sezioni a bordo e arrotondati per ospitare la pasta luminescente. La finitura micropallinata è davvero molto gradevole da vedere e aiuta anche a migliorare il contrasto con il quadrante. Al buio le prestazioni sono veramente molto buone, con una luminescenza duratura su sfere, indici e persino sull'inserto della ghiera. Non sarà il diver più performante sul mercato, ma certamente è tra i migliori da questo punto di vista. Il vetro è uno zaffero di tipo boxed con bordi arrotondati per ricreare l'effetto dei plexiglass vintage. Data la lieve curvatura e anche la colorazione scura del quadrante, è quasi impossibile che non si creino dei riflessi, anche nonostante il trattamento sul lato interno. Però questi riflessi non pregiudicano minimamente la lettura dell'ora. La ghiera ha un inserto in ceramica spazzolata in tinta con il quadrante. Questa esteticamente è davvero bella e aggiunge un tocco di modernità al design di questo Aquascap Titanium. I numeri sono incisi nello spessore e riempiti di superluminova. La superficie antiscivolo offre una presa sicura, sia perché è ben sporgente dalla carrure, sia perché la zigrinatura è evidente e pronunciata. I 120 scatti sono precisi e senza giochi, tuttavia su questo esemplare la rotazione alcune volte non è fluidissima. Confido che questo aspetto possa migliorare nel tempo. La cassa è chiaramente ispirata ai Sun Mariner 5512 e 5513, dai quali riprende l'indiscutibile fascino senza però risultarne un omage spinto. È realizzata interamente in titanio, addirittura di grado 5, una scelta che fa certamente spiccare questo Aquascap tra tutti gli altri concorrenti in questa fascia di prezzo. Per il momento questo esemplare ha dimostrato di resistere molto bene ai graffi superficiali. La finitura è interamente satinata ed è realizzata con grande cura, anche se osservata alla lente macro. Dalla vista laterale si nota la carrure bella snella e anche lo spessore complessivo e molto contenuto per un orologio impermeabile fino a 300 metri di profondità. La corona ore 3 è per metà portetta dalle spallette, ha la B di Baltic in rilievo, naturalmente e a vite, e la filettatura è molto precisa sia in apertura che in serraggio. Il fondello rispecchia lo spirito vintage dell'orologio e, così come sul Dual Crown, è forse il dettaglio meno ricercato di questo Aquascap. La finitura è interamente satinata e al centro è inciso il marchio di Baltic. Tra le varie indicazioni troviamo ribadito il dato sull'impermeabilità fino a 30 atmosfere e viene riportata orgogliosamente anche la dicitura Assembled in France. Il cuore di questo Aquascap Titanium è il calibro Miota 9039, un movimento estremamente affidabile ed ha le ottime prestazioni e persino la stessa Citizen che lo produce lo considera di fascia premium. La frequenza è di 28.800 alternanze all'ora, la riserva di carica è di 42 ore, è possibile la ricarica manuale ed è presente il fermo macchina. Questo esemplare corre un pochino di più rispetto a quanto rilevato di solito sui calibri Miota serie 9000, ma ha fatto comunque registrare una marcia costante nell'ordine dei più 10 secondi al giorno. Per l'Aquascap Titanium, per il momento, non è disponibile un bracciale specifico in titanio. Mi auguro che Baltic, prima o poi, ne aggiunga uno a catalogo perché renderebbe ancora più completo questo modello. Il cinturino di serie è un Tropic in gomma, esteticamente è ben fatto e la colorazione è perfettamente intonata a quella di ghiera e quadrante, però come materiale trovo che sia ancora un passo indietro rispetto a quelli di Zodiac, ad esempio, e ovviamente anche dei Tropic originali. Molto bella la fibbia d'ardiglione personalizzata in titanio. Questo orologio poi si presta tantissimo a esperimenti di ogni genere con cinturini di terze parti, inclusi anche i nati in nylon con cui fa un figurone. Al polso l'Aquascap Titanium, grazie allo spessore ridotto e al peso contenuto, è davvero comodissimo e anche il diametro, leggermente maggiore rispetto agli altri modelli di Baltic, non deve assolutamente spaventare neppure chi ha un polso più striminzito. Sul mio, da 16 cm, ad esempio, per i miei gusti lo trovo davvero perfetto. Il diametro, in corrispondenza della ghiera, è di 40,9 mm, ma la cassa è un po' più piccola e si ferma a 39 mm. La distanza da Ansa ad Ansa è di 46,8 mm. Lo spessore è di 13,2 mm, compresa la lieve sporgenza del vetro e il peso è di 66 grammi con il cinturino in gomma installato. Con questo diver Baltic si conferma essere un marchio estremamente interessante e da tenere d'occhio. L'Aquascap Titanium, ad oggi, è il loro diver più tecnico, sia per quanto riguarda i materiali scelti che per quanto riguarda l'impermabilità. Il diametro è leggermente più grande, ben si sposa con queste caratteristiche, senza però snaturare il progetto di partenza. Guardandolo si ha la netta sensazione di avere a che fare con un diver molto equilibrato dal punto di vista stilistico. Le finiture sono ottime e, in questa fascia di prezzo, poter contare su un titanio di grado 5 non è affatto una cosa comune. Avrei preferito però un cinturino in gomma di qualità superiore e, almeno su questo esemplare, la rotazione della ghiera sarebbe potuta essere un pochino più fluida. A parte questo, l'Aquascap Titanium è un diver che, reinterpretando lo spirito dei submariner del passato, aggiunge il tipico tocco di originalità a cui Baltic ci ha ormai abituati. Il listino è di 866 euro e, per ora, non sono presenti i concessionari fisici in Italia, quindi l'unica soluzione, se piace, è acquistarlo online. E voi che cosa ne pensate? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Spero che questo mio contenuto vi sia piaciuto, nel caso non dimenticatevi di lasciarmi un bel like e noi ci vediamo presto con un altro video.